Il mister in conferenza ha usato un'espressione, ha detto che in questo momento dobbiamo andare a petto nudo contro un tir, facendo riferimento comunque a quello che sarà l'avversario di domani, visti anche le non perfette condizioni di tanti giocatori. Sicuramente servirà un Arezzo con qualcosa in più. Serve che dal punto di vista della prestazione tiriamo fuori qualcosina che vada oltre l'ostacolo, come l'abbiamo fatto spesso durante la stagione. Poche volte però durante la stagione ci siamo trovati in una situazione d'emergenza numerica e qualitativa come adesso, che nel calcio può succedere, però è più facile assorbirla quando vieni da serie positive o da partite positive. Oggi veniamo da una sconfitta che non ha cambiato niente nel nostro cammino, nelle nostre intenzioni, però è un inizio di campionato dopo la sosta difficile. E' questo preciso a dirlo che non lo faccio per pararmi il culo o mettere le mani avanti, non ho bisogno di niente di questo genere qua perché so di avere una squadra di uomini dritti, quindi quando uno ha gli uomini dritti i problemi non ce n'ha, poi le partite si possono vincere o perdere. Domani serve che tutti quanti diamo qualcosina di più perché è una partita di alto livello. Sicuramente le condizioni del terreno di gioco potrebbero non aiutare l'Arezzo per caratteristiche e le chiedo se è vista anche l'emergenza e un avversario comunque forte come il Pisa potrebbe anche variare qualcosa non soltanto nella filosofia di gioco ma anche a livello tattico. Vediamo, facciamo la conta prima di quanti giocatori abbiamo a disposizione perché fino a domani, a due ore prima, tentiamo di recuperare tutto quello che può essere recuperato quindi oggi faccio fatica a fare, o meglio, delle idee ce le ho, però faccio fatica a darne una definitiva aspetto a vedere domani prima del match chi riesco ad arruolare. Che partita si aspetta? Guardando anche le caratteristiche dell'avversario. Incontriamo forse l'avversario che sta meglio di tutti sotto il profilo mentale perché viene da una grande partita contro il Siena perché ha rimpinguato l'organico con giocatori di alto livello su una squadra già di alto livello perché le ambizioni che ha sono note a tutti e espandierate a tutti giustamente per il tipo di rosa che hanno allestito però il calcio si parte da 0-0, 11 contro 11 come dissi prima non mi sono mai pianto addosso da giocatore né da allenatore quindi la mia squadra domani non si piangerà addosso. Forse delle tre sconfitte che l'Alezzo ha subito fino ad oggi, quella di domenica, è stata l'unica meritata? Meritata? Dopo il primo tempo ti dico di no. Alla fine della partita la Proverciaglia non ha rubato niente però stiamo sempre a parlare di episodi perché se andiamo in vantaggio con la palla di Cutolo prima della partita con l'Amma ne parlavamo dove era molto probabile che la squadra che fosse andata in vantaggio alla fine avrebbe potuto portare a casa il risultato perché la partita è in grande equilibrio alla fine è stato così, al di là della traversa da 25 metri di Mammarella e il gol che hanno fatto abbiamo subito un colpo di testa di Germano che sia una squadra fisica lo sapevamo già prima, che abbia grande qualità lo sapevamo già prima però non ho visto una squadra che ha surclassato l'Alezzo detto questo si è meritata di vincere, ci prendiamo una sconfitta e tentiamo di fare meglio la prossima Remegli sarà squalificato? I giocatori disponibili o comunque quelli che sono in dubbio al momento quali sono? In teoria tutti, in pratica da stasera vedo quali nel senso che ne abbiamo diversi con qualche problemino da Luciani a Foglia che è uscito Malconcio, a Buglio che è uscito Malconcio Remedi non ci abbiamo per squalifica, Tassi non sappiamo se è pienamente recuperato dal problemino che ha avuto Gozzano, Salifu inespresso fino a oggi dati alla mano e Basit non lo so se ce l'ho recuperabile oppure no quindi diciamo le defezioni più grosse numericamente ce le abbiamo in mezzo al campo considerando anche che Belloni che di solito utilizzo da trequartista viene da 15 giorni fermo quindi devo vedere oggi come sta Una battuta sulla vicenda del propria scienza Aspetto il 30 che c'è sto benedetto Consiglio federale per esprimere un'opinione definitiva hanno dato secondo me a quelli della Lega un messaggio importante domenica se dovessero mantenere quello che oggi dice Ghirelli io il 31 di gennaio mi scuso davanti a tutti per quello che ho detto fino ad oggi però aspetto il 31 per farlo vediamo che succede ma no perché uno debba ottenere o no dei vantaggi non mi frega niente non sto neanche là a fare i calcoli se la classifica nuova sarà come quella vecchia non mi frega niente che dobbiamo fare domani col Pisa l'importante è che diamo un segnale a noi stessi come federazione come Lega come calcio perché se no diventiamo una barzelletta oggi un passo importante credo che sia stato fatto Il mercato, lei ha citato la fine di gennaio, si chiude a fine di gennaio anche il mercato si aspetta qualcosa? Aspetto di recuperare i giocatori che oggi ho a mezzo servizio in piena efficienza come Benucci che può essere un acquisto importante per noi come Belloni che oggi è praticamente un giocatore che non ha mai dato il contributo che potrebbe dare per svariati motivi quindi già il fatto di poter recuperare due pezzi del genere aumenterebbe la nostra qualità poi entro il 31 può succedere qualsiasi roba oppure no Grazie a tutti